E' bufera sul palco di San Bernardino. Il PD lo aveva denunciato in conferenza stampa, ma ora l'Associazione Cittadini per il Centro Storico porta le carte in procura. Nel Mirino c'è il palco dinanzi alla Basilica di San Bernardino, usato per i cantieri dell'immaginario, ma montato molto prima per permettere la realizzazione dei saggi di fine anno di molte scuole di danza. Nell'esposto si legge che la scalinata è sottoposta a vincolo monumentale. Il Comune per il montaggio ha affidato due appalti ma senza la certificazione SOA, insiste l'Associazione, e senza autorizzazione della sovrintendenza. Lo ha fatto solo nel 2024, ma non avrebbe rispettato anche qui le prescrizioni, di qui le carte in procura. Nel 21 e nel 23 il Comune ha eseguito il montaggio del palco senza richiedere nulla osta della sovrintendenza, quindi senza rispettare la normativa prevista al Codice degli Appalti e per quanto riguarda anche la tutela del patrimonio monumentale. Per quanto riguarda il 24, il nulla osta della sovrintendenza è stato richiesto, è stato comunicato dal Comune che si sarebbe montato questo palco e la sovrintendenza ha dato il suo nulla osta con prescrizioni. Il tutto però è avvenuto nella giornata del 2 maggio, ovvero sia il 2 maggio la sovrintendenza ha dato il nulla osta con le prescrizioni, quindi l'affidamento ad un'impresa con la relativa SOA. La comunicazione 15 giorni prima dell'inizio dei lavori del nome del direttore dei lavori e la trasmissione del progetto, considerando che lo stesso 2 maggio il Comune ha iniziato i lavori di montaggio del palco, anche in questo caso verosimilmente non sono state rispettate le prescrizioni date dalla sovrintendenza. L'istanza è venuta da molti iscritti all'associazione che hanno manifestato molte perplessità sul montaggio di questo palco monumentale per quattro mesi sulla scalinata di San Bernardino e quindi molti cittadini si sono chiesti se effettivamente fossero state rispettate le regole e se il montaggio di questo palco fosse a norma o meno. Quello che si chiede semplicemente è la verifica del rispetto della legalità, perché le norme ci sono e quindi devono essere rispettate in primis da chi ci amministra.